il quarto ripiano del quarto scaffale della biblioteca poplite fumetti presenta una serie di albi spillati di grandissimo formato molti della comic art e un'intera fila dedicata a tarzan sul retro troveremo una serie di albi a fumetti pornografici vedremo tutto in dettaglio iniziamo la collezione del quarto ripiano del quarto scaffale della biblioteca poplite fumetti con la prima fila interamente occupata da fumetti pornografici per primi troviamo tre libretti della collana parodi dedicati rispettivamente a porcellinus quindi i peanuts di schulz brandy cap quindi handicap di reg smith abbraccio di ferro popaie di sigar per l'editore savelli dirty stars un'antologia di dirty comics dal 1930 al 1960 poi abbiamo i primi 13 numeri di peter paper o peter paper che dir si voglia disegnati da roll buzelli fratello del più famoso guido scorriamo velocemente le copertine abbiamo poi una serie di numeri sparsi diciamo una documentazione del fumetto pornografico italiano i potenti mondo corrotto puro sesso collezione alcuni numeri di oltretomba oltretomba gigante oltretomba colore terror blu fumetti record la lupa mannara il vampiro succhia per serie rossa lo sculacciatore zanzibar america 2000 macabro e in formato più grande oltretomba gigante horror e terror qua invece ci sono ristampe degli anni 90 per la collana i king del fumetto dedicata al leone frollo abbiamo fan quattro numeri e poi ira ancora di leone frollo per la collana argento wallestain di romanini per la collana black jack necron di magnus e tacconi ladri di cadaveri per la collana jolly ancora magnus con alcune storie e poi ritroviamo leone frollo con naga infine abbiamo la collana i nobel del fumetto con un numero uno dedicato a biancaneve e i sette nani di leone frollo e poi come collana spectron ancora i nobel del fumetto ripartendo dal numero uno albivari il barone rosso il barone rosso vola e uccidi di ferdinando tacconi ira di leone frollo alcune storie di magnus vendetta macumba mezzanotte di morte quella sera al collegio femminile la regina dell'inferno di sandro angiolini gangster story ancora di ferdinando tacconi vampiri di stelio fenso in formato più piccolo fenomeni di morte di segni di mario cubino formato grande terror park vedete un'alternanza di formati frankstein di paolo morisi e tangentopolis e i 40.000 ladroni disegni di massimo pesce ecco qua fumetti pornografici abbiamo adesso moltissimi albi dedicati alle strisce giornaliere di tarzan realizzati fra gli anni 80 e 90 da franco grillo per l'anaf o il club amici del fumetto le belle copertine che stiamo scorrendo sono di albi di grande formato impaginati verticalmente poi sotto invece ne avremo moltissimi orizzontali questi ultimi sono usciti come allegati alla rivista fumetto appunto dell'anaf vediamo nel 1989 il volume brossurato tarzan land con strisce e tavole a continuazione e poi gli albi in formato orizzontale con strisce di vari autori scorriamo velocemente perché sono veramente tanti e quindi Grazie a tutti. Ecco qua Tarzan. Ancora Tarzan con una serie di albi dedicati in gran parte al disegnatore Russ Manning. Per prime abbiamo due serie da edicola della editrice Dardo che sono qua perché l'Anaf è ripartita da dove queste collane si erano fermate. Tarzan Super presenta le strisce giornaliere e di questa sono usciti dieci numeri. Quindi scorriamo alcune copertine fino all'ultima numero 10. Mentre Tarzan il re della giungla presentava le tavole domenicali sempre di Manning e sempre in ordine cronologico. Questi sono 11 numeri. Ancora della Dardo abbiamo due albi brossurati a colori sempre di Manning la fozza del tempo e la terra dimenticata dal tempo. Passando all'Anaf, Pellucidar, il paese al centro della terra sempre di Russ Manning in bianco e in nero e la palude dei leopardi ancora di Manning. Queste sono tratte da comic book. Con il titolo semplicemente Tarzan, un albo dell'Anaf uscito nel 1988 con fumetti del periodo 1978-79 tavole domenicali in bianco e in nero. Tarzan delle scimmie, uscito nel 1991, propone invece una lunga introduzione, una cronologia e le prime storie del 1929 che come vedete non erano fumettate ma si trattava di vignette con il testo sottostante scritto in questo caso con caratteri tipografici. Con il titolo Pellucidar e una copertina dovuta a Pino Rinaldi ancora un'introduzione illustrata e quasi una prosecuzione del volume precedente perché qua siamo nel 1931 disegni di Rex Maxon ancora vignette con il testo sottostante per poi passare invece a storia degli anni 40 quella che dà il titolo Pellucidar e alla fine del volume c'è anche la cartina geografica di Pellucidar ecco qua proseguiamo con un gran numero di albi dal formato molto grande per primi tre titoli dell'editore Canicola Andrea Bruno Sabato Tregua Amanda Vamaki Cani Selvaggi Anna De Florian Rughi Jane di Mike Hubbard con la storia Jane e il mago è un albo stampato in digitale supplemento a UK Comics del 2007 Propaganda Criminal è il numero zero di presentazione una serie di storie inedite che sarebbe dovuta essere realizzata da Mondadori Comics ma il tutto poi si è fermato a questo numero zero Comics 2013 Special Edition per Lucca Comics End Games è una ripresa del giornale dei fumetti che Franco Cosimo Panini editore pubblicava negli anni 90 adesso abbiamo tutti albi della comic art dedicati a Brick Bradford per primi quelli con le tavole domenicali a colori alcuni dei quali hanno queste splendide copertine realizzate appositamente da Gianni De Luca altri invece hanno copertine molto diverse scorriamo velocemente eccone altre di De Luca ancora tavole domenicali queste di Paul Norris e qua passiamo alle strisce giornaliere in bianco e nero stiamo andando a ritroso queste sono quelle più recenti fra quelle presenti in biblioteca di Paul Norris e poi quelle precedenti disegnate da Clarence Gray scorriamo velocemente vediamo alcune copertine ci sono anche diverse storie divise in più parti vediamo la regina della notte 4 famosa storia il trono di Titania anche questa divisa in molte parti il mostro d'acciaio altra famosissima avventura di Brick Bradford il viaggio nella moneta una delle più celebri e le prime pubblicate dalla comic art Amaru la città sottomarina collana Gerti Daily numero 3 ecco qua Brick Bradford ancora albi della casa editrice comic art per la collana special mongo Flash Gordon di Alex Raymond albi di grande formato con una perfetta riproduzione delle tavole domenicali a colori qua abbiamo i primi 10 albi scorriamo velocemente questo è l'ultimo la regina delle nevi collana special mongo nella stessa collana abbiamo poi alcune storie della Disney Mickey Mouse Topolino e l'enigma di Brigabum di Romano Scarpa e ancora il maestro Scarpa con Topolino e la banda dello Sternuto mentre con il titolo Paperino giura vendetta abbiamo tavole domenicali autoconclusive di Donald Duck e lo stesso prosegue con Paperino e i suoi sette guai ed altri che scorriamo velocemente tornando alla collana Gertie Daily della quale abbiamo visto prima i Brick Bradford qua ci sono alcuni albi di Steve Canyon di Milton Caniff vedete Stars and Stripes 1958 il personaggio alternava strisce giornaliere e tavole domenicali e con questo formato molto grande la Comic Art pubblicava le sei strisce in una pagina e la tavola domenicale nell'altra proseguiamo 1959 poi un salto al 1967 sempre diviso in due albi poi torniamo al mondo Disney con le strisce giornaliere di Mickey Mouse a partire dal 1930 le prime vedete un'introduzione e poi ecco qua le primissime strisce giornaliere di Topolino scorriamo velocemente la cronologia che arriva fino al 1936 ecco qua e 37 con Topolino Sosia di Resorcio queste invece sono le tavole domenicali con la parte superiore dedicata alle Silly Symphonies e la parte inferiore alle tavole autoconclusive di Topolino si parte dal 1932 si arriva al 1936 poi un salto al 1940 quando nelle Silly Symphonies c'era la storia di Pinocchio e si prosegue fino al 1940 1947 questo è il numero più alto presente nella biblioteca ecco qua Walt Disney Sunday Castro Valva di David Genchi è un albo in formato tabloid di otto pagine pubblicato da All of Press alias Comics per due estati 2017 e 2018 è uscito in allegato al quotidiano il manifesto una volta al mese vediamo il numero 1 di giugno il 2 di luglio il 3 di agosto il 4 di settembre poi passiamo all'anno secondo numero 1 giugno 2018 numero 2 luglio scorriamo alcune pagine numero 3 agosto numero 4 settembre numero 5 ottobre poi uno speciale natale e un numero di presentazione e con alias Comics finisce la collezione del quarto ripiano del quarto scaffale della biblioteca Poplite e Fumetti . . . . . .